Creare una vera e propria azienda da zero sul settore dei viaggi, il nostro gruppo ha fatto il suo meglio per poter creare un'esperienza di viaggio il più accattivante possibile secondo insomma i dettami della challenge. È stata una challenge bella, divertente, avvincente, siamo divertiti e mi ha fatto divertire anche la mente. Team Galacticos ha sviluppato questo progetto di realtà virtuale soprattutto per indirizzato alle persone fragili. Abbiamo visto che non abbiamo tanti competitor con questa idea quindi è stato veramente molto soddisfacente. Grazie a tutti.